Almeno un depuratore su tre in Abruzzo non funziona come dovrebbe. L'Arta ha pubblicato i dati sulle acque relative al 2018 e ciò che ne emerge inquietante. Su 272 impianti controllati, ben 97 hanno riscontrato una quantità di escherichiacoli sopra il limite di legge. La provincia con la percentuale maggiore del batterio generalmente presente nelle feci è Pescara, ma quella di Chieti è il numero assoluto più elevato, 42 impianti con almeno una criticità. Ed è proprio nella provincia teatina che si è registrato il record. Nel 2018 il depuratore di aria ha toccato picchi di escherichiacoli 200 volte superiori al limite. Dopo l'intervento delle autorità di controllo però la situazione dovrebbe essere risolta. In tutto si sono registrati 119 casi di sforamenti su 561 e 31 di questi superavano addirittura il milione di unità ogni 100 millilitri, a fronte di un limite di 5.000. Ed è di Chieti, in questo caso, il triste primato. In generale i dati sull'inquinamento delle acque abruzzesi sono allarmanti, un'orribile notizia, benché prevedibile riguardo quello che dovrebbe essere il polmone verde d'Europa. E' proprio l'Europa aperto diverse procedure di infrazione che hanno già portato alla condanna dell'Italia. Le acque inquinate così sono un rischio per la salute degli abruzzesi assolutamente da non sottovalutare, specialmente se consideriamo che corsi d'acqua, depurati in teoria ma non in pratica, spesso sono poi utilizzati per irrigare i campi coltivati. Negli ultimi mesi però sono stati avviati lavori per rendere a norma diversi depuratori e a Pescasseroli, dopo anni dalla condanna della Corte di Giustizia all'Italia, è stato inaugurato un nuovo impianto. Non basterà però costruire nuovi depuratori, bisognerà anche farli funzionare con società adeguatamente organizzate. Secondo il forum H2O, servono investimenti nel settore per far uscire le società di gestione dalla crisi in cui molte di esse versano, per velocizzare gli interventi e assicurare una gestione futura efficiente.